Amore antifascista, Ampi e Arci domenica scorsa hanno raccolto circa 100 firme a sostegno della proposta di legge popolare contro la propaganda e la diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo. L'iniziativa è stata di portata nazionale e a Caltanissetta si è svolta in centro storico. In Italia stiamo assistendo da diversi decenni, anzi da quando è finita la guerra non è mai finito, a rigurgiti fascisti che vanno a minare le basi della nostra democrazia, basata sulla nostra Costituzione, fondata sulla nostra Costituzione, nata dall'esperienza della resistenza e dall'antifascismo. Fascismo che si manifesta sotto le più svariate forme, dalle discriminazioni, al fatto che una donna simbolo della memoria come Liliana Segre abbia dovuto ricevere la scorta perché minacciata da insulti nazisti e fascisti. Quindi crediamo che questa proposta di legge possa essere molto utile per poter donare alle prossime generazioni una società democratica fondata su quei valori.